Peccato contro l'Atalanta, ma questa non è una sprint, ma la Marathon. Abbiamo cominciato il campionato adesso, quindi manca solo gol. Abbiamo fatto tutti in partita, manca solo un gol, quindi sì, dobbiamo migliorare anche la prossima partita. Juve è una squadra molto forte, ma anche Vlaovic è un attaccante molto forte, quindi non è una partita facile, ma abbiamo lavorato come una squadra, quindi siamo felici per questo punto. Ogni partita in Serie A non è facile, è molto difficile, quindi adesso siamo pronti per ogni squadra, siamo sempre compatti, sì, dobbiamo migliorare per solo fare gol, manca solo un gol. Noi siamo sempre pronti per ogni squadra, ogni partita, sempre dobbiamo dare la massimale, sempre 100% ogni partita, ogni allenamento, quindi siamo in strada giusta.